Ben trovati all'appuntamento con Dentro al Consiglio, il nostro settimanale dedicato ai lavori del Consiglio regionale della Toscana. Anche in questo appuntamento ci sono tre argomenti. Il primo ci porta a parlare della Commissione Sanità, a destinare quanto effettivamente avanzato dei 206 milioni previsti dalla Regione alle RSA. E poi si festeggia la nuova Presidente Maria Vittoria D'Annunzio della Giovane, ovvero il Parlamento degli Studenti. Il premio Pianeta Galileo va a Elena Cattaneo, professoressa e ovviamente senatrice a vita. Allora, partiamo subito con il primo argomento e andiamo subito nella Commissione Sanità. La quota avanzata e non effettivamente assegnata dal contributo anno previsto dalla Regione, sono 206 milioni di euro, dovrà essere destinata a coprire le difficoltà oggettive delle RSA, così come è emerso nell'audizione dello scorso 24 novembre, quanto scritto in una proposta di risoluzione che la Commissione Sanità del Consiglio regionale, guidata da Enrico Sostegni, ha approvato lo scorso 30 di novembre. Nel testo c'è anche un forte richiamo alla Giunta sul fronte della formazione per avere percorsi con le agenzie accreditate. Ma ascoltiamo anche il parere dei consiglieri, oltre al Presidente Sostegni. Una pluralità di fattori, l'aumento dei prezzi, l'aumento dei costi di energia, l'aumento dei costi legati alla gestione Covid, hanno generato una situazione di forte sofferenza per le RSA, che ha bisogno, come sta facendo l'assessorato, di una serie di analisi anche di cambi nell'organizzazione e nella normativa. Ma c'è bisogno anche di un aiuto economico, perché oggettivamente, se no, tante RSA non riescono più a sostenere la gestione del servizio. Sono un elemento essenziale dei servizi per la non autosufficienza, di integrazione con i servizi poi sanitari, e quindi per noi chiediamo alla Giunta di prevedere un contributo per aiutare e garantire la sostenibilità del sistema dell'RSA in Toscana. Bisognerebbe fare una cosa semplicissima, prendere atto che la Regione Toscana da 15 anni a questa parte non rivede la quota sanitaria, mi risulta che da 15 anni a questa parte le spese per il mantenimento di un posto letto in RSA siano un po' differenti. Negli ultimi 15 anni forse le spese sono un attimino aumentate e la Regione Toscana non rivede la quota sanitaria. Il documento che è uscito dalla terza Commissione è un documento ben fatto, è un documento che chiede giustamente, è il nuovo esercizio stilistico del Partito Democratico, su qualunque punto chiedere soldi al Governo, quindi chiede giustamente un impegno del Governo per prevedere un aiuto anche per sostentare i costi energetici dell'RSA. Il Governo ha previsto, di questo se ne sono dimenticati, non l'hanno scritto nel documento, gli chiederemo di inserirlo noi, che il Governo ha destinato 21 miliardi su 30 della manovra ai costi energetici, non ha inserito l'RSA nella lista dei soggetti che ne possono beneficiare, quindi è giusto chiedere che vengano inseriti, come è giusto però chiedere anche che la Regione Toscana rivede la quota sanitaria. Bene che la Commissione abbia raccolto anche le nostre istanze, chiediamo di fare di più, per questo sono arrivati degli emendamenti che sosteniamo, ma chiediamo di fare di più anche in termini economici, una risoluzione di buonsenso che noi sosteniamo in Consiglio regionale deve essere accompagnata da delle risorse importanti, non completamente dire quanto, 20, 30 o 40 milioni sarebbe semplice oggi dire quanto, è evidente che il prossimo bilancio non può non tener conto di questa che è una richiesta oggettiva rispetto a una rivalutazione, ma non solo, di costi crescenti che le strutture hanno e di una rivalutazione delle rette che deve essere ovviamente sostenuta dal sistema pubblico. La Giunta aveva predisposto più di 200 milioni per le RSA. Alla fine dell'anno ci sarà un disavanzo, nel senso un positivo di 27 milioni, 30 milioni all'incirca e questo è ciò che le risidenze per anziani richiedono per sopperire a tutte quelle mancanze che hanno dovuto purtroppo soffrire in questi anni. Da questo siamo ripartiti. Mi fa piacere che la Commissione abbia recepito i miei messaggi che ormai durano da più di 12 mesi per quello che riguardava proprio le difficoltà delle residenze per anziani che hanno fatto da Covid, hanno fatto da centro di accoglienza proprio per gli anziani che avrebbero se no intasato il pronto soccorso nel periodo Covid e comunque la necessità proprio di rivedere le quote sanitarie o addirittura rivedere quello, percepire quello che era stato un documento del 2010 in riferimento all'Istat. Parlare oggi di denaro che può avanzare alla Regione è sicuramente rischioso perché in realtà i problemi che si trascinano la sanità e gli affari sociali sono molti e la coperta è corta. Certamente le RSA rappresentano una porzione fragile della nostra società che aveva bisogno già da tempo di essere aiutata già al momento in cui la pandemia ha colpito molto duramente e sono state molte le proteste che sono arrivate anche dai gestori e dalle famiglie che non potevano più permettersi di mantenere i propri cari all'interno dell'RSA anche quando non avevano nessun'altra scelta. Quindi la Regione deve intervenire, deve intervenire organizzativamente innanzitutto perché ricordiamo che c'è anche una carenza di personale che in gran parte, in buona parte è transitato dalle RSA con i concorsi alla sanità delle ASL e quindi le RSA si sono trovate di fronte anche a questo problema. Insomma, la Regione deve mettere mano sicuramente a delle soluzioni che non sono solo di carattere economico ma anche di carattere organizzativo. Entriamo quindi nell'aula un'aula che vedremo anche dalle immagini costituita da tanti ragazzi perché si è insediato il Parlamento regionale degli studenti. Il Parlamento ha iniziato la sua attività in coincidenza con la celebrazione della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne per questo in aula campeggia un classico paio di scarpe quelle rosse il simbolo della lotta per i diritti delle donne contro la violenza di genere posta sopra la bandiera italiana a quella europea. Ad aprire la seduta con i suoi saluti il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeola. Alla fine ci sono state poi dopo il dibattito hanno parlato molto anche i ragazzi proprio del problema della violenza sulle donne c'è stata la votazione il Presidente del Parlamento degli studenti della Toscana per il 2022 e 2023 è stata eletta a larga maggioranza con 36 voti una ragazza una donna Maria Vittoria D'Annunzio proveniente dall'Istituto Alberti Dante di Firenze. I giovani sono i protagonisti del nostro tempo e vorremmo costruire insieme a loro il futuro un grazie al past president a Mauro Cioci un grazie un grande in bocca al lupo a Maria Vittoria D'Annunzio avrà di fronte a sé la necessità di lavorare coinvolgendo tutte le ragazze e tutti i ragazzi toscani il nostro obiettivo è dare voce a chi ha meno voce possiamo costruirlo insieme e credo anzi mi auguro che costruendolo insieme possiamo dare quelle risposte che in questo tempo difficile della pandemia non siamo riusciti a dare una bella sfida una sfida collettiva ponendo sempre un obiettivo di fondo un bimbo che nasce in un piccolo comune della nostra regione nel più piccolo deve avere gli stessi diritti di un bimbo o una bimba che nascono a Firenze è una grande sfida una sfida che possiamo vincere solo tutti insieme è stata una bellissima esperienza formativa che ha dato tanto e di cui ricorderò tanto e purtroppo lasciare il testimone è parte di questa esperienza ma sono tranquillo a lasciarla una persona che secondo me farà un ottimo lavoro io sono ancora incredula non riesco ancora a capacitarmi non penso di averlo ancora realizzato sono felicissima soprattutto perché ho visto una vera partecipazione anche nel seminario che abbiamo svolto a Montecatini in questi giorni parlando di parole pace e quindi l'importanza della comunicazione in tempo di guerra ecco io penso che la comunicazione sarà il punto in cui più mi impegnerò a far rispettare perché la comunicazione è quella che serve non solo per far conoscere il nostro organo ma anche per dare voce a chi in questo particolare periodo storico non ha la possibilità di esprimersi come noi una cerimonia per dare l'opportunità di conferire il premio pianeta Galileo alla professoressa senatrice a vita Elena Cattaneo a consegnare il prezioso riconoscimento c'era il presidente del consiglio regionale e oltretutto proprio l'abbiamo vista pochi istanti fa la presidente del parlamento regionale degli studenti perché alla cerimonia hanno partecipato ha partecipato proprio una delegazione del parlamento regionale la classe quinta C dell'istituto di istruzione statale superiore Enrique Sagnoletti di Sesto Fiorentino è un riconoscimento sicuramente al grande lavoro di ricerca che la senatrice Cattaneo porta avanti ormai da tanti tanti anni e che hanno visto l'Italia emergere nel mondo ma è anche un premio alle tante donne alle tante ragazze e tanti ragazzi che si impegnano con fatica nel mondo della ricerca quando questa ricerca poi si trasforma in una risposta per migliorare la vita dei cittadini è qualcosa di bello e di enorme il progetto Galileo è qualcosa a cui io tengo molto perché parla alle ragazze e ai ragazzi divulga scienza conoscenza permette a ciascuno di loro di poter crescere migliori e penso che questo sia qualcosa di enormemente bello e importante come istituzione consiglio regionale continueremo a portare avanti queste iniziative perché solo dove c'è più scienza dove c'è più conoscenza c'è più libertà questo premio si inquadra nell'ambito delle attività di pianeta Galileo per l'appunto si chiama premio pianeta Galileo e vuole essere un riconoscimento ad una personalità del mondo scientifico che oltre all'attività che svolge nell'ambito accademico scientifico ricerca e didattica ha svolto anche un'attività di diffusione della cultura scientifica e quindi un'attività legata agli aspetti sociali della nostra comunità la professoressa Cattaneo professoressa e senatrice a vita della Repubblica risponde perfettamente a questi requisiti perché oltre ad un'attività scientifica di grandissimo livello si è sempre prodigata nella diffusione della cultura attraverso iniziative rivolte ai giovani e dal 2013 svolge la sua attività di senatrice a vita e anche come parlamentare fa sentire il suo peso scientifico in un ambito diverso da quello da cui proviene la cosa interessante di essere uno scienziato è che non si deve sapere tutto io mi affido alle istituzioni abbiamo istituzioni solide abbiamo avuto comitati solidi che ci hanno fatto uscire da un dramma che l'umanità non aveva mai vissuto prima nella sua storia io continuerei ad affidarmi a queste valutazioni alle loro riflessioni spero che ci sia una maggiore consapevolezza del fatto che la scienza e il suo metodo sono la bussola migliore che possiamo avere per essere guidati nei mari in tempesta la scienza altro non è che un metodo appunto per approfondire come stanno e capire come stanno le cose intorno a noi conquista pezzi di conoscenza per tutti noi li mette a disposizione con dati evidenze prove visibili pubbliche verificabili ripetibili sarebbe assurdo con questi bagagli di esperienze di cui disponiamo arrivare a decisioni che prescindono dai dati di fatto e dalle evidenze quindi spero che sempre più le decisioni legislative siano nelle decisioni legislative possano entrare le prove le evidenze scientifiche io sono oggi rappresentanza dell'ufficio scolastico ma vengo dalla scuola dalla secondaria di secondo grado cioè dall'ordine di scuola che ha potuto insomma godere di questo progetto e trovo che il premio alla senatrice per il ruolo anche evidentemente di scienziata di livello elevatissimo ma anche di donna che ha divulgato la scienza questo trovo che sia molto importante per il suo ruolo di mediazione anche presso i ragazzi le università sono la casa della scienza sono il tempio della scienza e quindi attribuire questo premio ad una scienziata illustre che rende importante il ruolo della scienza nella nostra società è un momento certamente da celebrare con la massima partecipazione dobbiamo dare spazio al ruolo della scienza non solo nelle università ma nella società e soprattutto in questi ultimi tempi recenti in cui qualcuno mette in discussione il ruolo della scienza con impostazioni che davvero non rendono giustizia a quanto la scienza ha dato all'evoluzione della nostra società al suo sviluppo e a quello che soprattutto negli ultimi due anni ha consentito di far fronte all'emergenza pandemica del covid noi ragazzi del Parlamento io porto i saluti sia dei parlamentari qui presenti sia di coloro che oggi non sono potuti essere qui siamo veramente grati di avere questa occasione di poter parlare con la senatrice che sicuramente può fungere da insegnamento per noi ragazzi che ancora siamo in fieri del nostro percorso scolastico e che sicuramente lo vedremo come una grandissima occasione di consapevolezza riguardo a non soltanto in ambito scientifico ma proprio una strada futura da apprendere e con il premio Pianeta Galileo 2022 si conclude anche l'appuntamento con Dentro il Consiglio vi ricordo per tutti gli aggiornamenti le delucidazioni e le informazioni c'è il sito internet www.inconsiglio.it io vi ringrazio per essere stati con noi vi do appuntamento tra sette giorni quando saremo ancora insieme Dentro il Consiglio per aver guardato il nostro